ciao amici bentornati sul mio canale oggi siamo in diretta su twitch perché aprirò i vostri regali i regali che abbiamo fatto tramite la wishlist su twitch io vi ricordo che stream su twitch tutti i giorni vi lascio qui sotto il link in descrizione quindi vi aspetto su twitch per farci compagnia insomma tutti i pomeriggi perché praticamente stream tutti i pomeriggi quindi vi aspetto detto ciò partiamo andiamo ad aprire tutti questi bei regalini nooo ho rotto la calza e hai tirato un caccio all'alto nooo vabbè iniziavo benissimo allora mi è arrivato questo pacchetto oggi già faccio anni aspetta faccio un coltello forbici o schiavo stanno dicendo allora io penso che sia quello che penso perché in realtà non c'è il vittente qui lo scoprirò adesso che altro ah no vabbè che cos'è che carino si no no non era quello che pensavo oddio ma sei tu ah che carino si da parte di app e da parte della mia agenzia ah è una mensola è una mensola della mia agenzia questa sarei io in versione pop e iappen è la mia agenzia grazie a iappen questo bellissimo regalino ok primo è andato allora questo si apre da qua oh la ce l'abbiamo fatta ok che cos'è vediamo nooo che carina è la sveglia ah è la sveglia di ivy guardate la sveglia dei popoli vediamo cosa c'è scritto qui dentro oh è frankie ciao imo sei una potenza ti meriti un successo planetario ps e buone feste da frankie sundas grazie frankie io vi giuro io vi amo troppo grazie grazie di cuore apriamo questo pacchetto qua dai non fare così oh sembra che ti per uccidere ma alzi il gomito come se fosse un calciatore che deve saldarsi il calcio da l'angolo oh già vedo un'altra cosa super nerd vi posso dire una cosa non ho mai ricevuto così tanti regali quindi se no proprio felice vediamo prima il bigliettino vediamo chi è oh si gigi è di gigi questo un regalo solo mi sembrava troppo poco per una persona che rallegra le mie giornate e mi fa sempre tornare il sorriso grazie di tutto e continua così che sei così che sei una forza della natura tantissimi auguri da luigi uzzeri grazie gigi guardate raga allora questa è harley quind a birds of prey il pop di harley quind a birds of prey adesso arrivo ve lo faccio vedere bellissimo grazie mille gigi vai forbici dove vi trovate siamo nella mia veranda non vi ho mai fatto vedere questo lato di casa mia siamo sempre a casa mia un pantofone di home best non farei sempre sta faccia ogni volta che mi favo ma che ne sai guardavi dall'altra parte no ho capito ma te pare che ti ammazzo io non lo so ah guarda questo già sto vedendo un'altra cosa nerd raga oh vale ci sei è valentino direttamente dal villaggio del cazzo kage della voglia e infatti tu lo sai che io sono partita dall'alto io facevo meme su questa pagina di naruto e lui mi segue da lì lui è stato uno dei miei primissimi fan io penso tra i primi venti fan è lui capito quindi valentino è nel cuore veramente mi segue da tantissimo tempo buon natale anto dal tuo fan numero uno ti voglio bene da valentino alias corvo 666 grazie vale andiamo a vedere che cosa ci ha regalato vale oddio il pop di crash bandico eccolo qui questo qui è acu acu è il pop di crash bandico regalato da valentino corvo 666 pazzesco raga bellissimo ahia vedi adesso mi stavo tagliando è sempre colpa tua è sempre colpa tua lasciamo i commenti ragazzi wow allora vedo un verde un verde speranza vediamo cosa c'è qua dentro molto vestito da che carino ma l'hai anche impacchettato un piccolo pensiero per un buon natale dal tuo mod destro eric grazie adesso l'abbiamo trovato meno male ma guarda che carino bellissimo ma non sapevo che è un mod che si può fare si 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 la sapevo sta cosa signore d'altri tempi signore come sempre guarda ancora c'è il pacco nel pacco si il pacco nel pacco ma è un po' bellino ma no è una donna è un altro pop già lo vedo che è un pop che pop dicono infatti qualcuno dice pokemon eccolo qui ma no che bello è un pop di charmander eccolo qui raga guardate pazzesco un altro pop vabbè adesso impazziscono quando lo vedono aia aia e qui ci saranno contenuti che fioccano si vediamo chi me l'ha regalato vediamo prima il bigliettino un altro da frankie ma che carino per elogiarti servirebbero solo banalità ma tu non sei una ragazza banale felice natale da uno dei tuoi guerrieri spartani di twitch frankie su grazie frankie come se un regalo non bastasse just dance 2021 ve lo faccio vedere arrivo eh just dance 2021 regalato da frankie per nintendo switch oh che carino allora vediamo aspetta eh biglietto biglietto prima ancora frankie ma che è la tombola grazie frankie un piccolo pensiero per una grande artista no frankie ma quanti regali mi hai fatto frankie grazie raga cosa c'è qui dentro è bellissimo raga questo va dritto dritto sul mio scaffale è un peluche piccino si chiamano i kawaii cubes questi allora come vedete è un cube è cubico vedete è proprio un cubetto piccino questi sono collezionabili non so se li conoscevate già sono i kawaii cubes e ci sono insomma di vari personaggi sempre nerd diciamo questa è harley queen perché come sapete io amo io ho una venerazione spasmodica per harley queen poi facciamo quel pacco rovinato davanti eh questo qui è un po' è ha una confezione diversa non lo so perché vogliamo fare questo vai no vabbè è bellissimo lo amo oh ok allora aspettate ragazzi è il biglietto apriamo il bigliettino balter gentile non ci incontreremo mai quindi ti ringrazio della tua allegra compagnia in questi pomeriggi su twitch buon natale buon anno a te tua sorella tua mamma tuo fratello aida e aria da quello che passa ora sotto casa ciao ciao a me un Buzz Lightyear ragazzi c'è c'è tutta la vita che sogniamo un Buzz Lightyear questo regalo è bellissimo allora apro il tuo Jacopo no vabbè lo fa sempre ogni regalo che mi fa Jacopo sempre la carta delle principesse Disney sempre questa carta troppo carina vediamo vediamo sembra un po' pazzo no che cos'è nooo ce n'è un altro anche dentro c'è un'altra cosa che bello Scorbanni sono sempre un bocchillero sai che prima cosa ho fatto il cosplay di Scorbanni donna quanto è bello raga è bellissimo il perusce di Scorbanni io ci ho fatto anche il cosplay e tra l'altro è stato il primo lavoro che ho fatto da Nintendo quindi ci sono particolarmente legato a Scorbanni quindi queste sono cose che solo Jacopo può sapere diciamo in questo senso c'è anche un altro pensilino dentro vediamo nooo grazie Jacopo mi emoziono sai perché perché allora questo qui è il CD di Max Pezzali come tutti sapete insomma diciamo è cosa nota che è il mio cantante italiano preferito Max Pezzali però il fatto che me l'abbia regalato Jacopo è particolarmente emozionante vi spiego anche perché perché Jacopo mi aveva regalato per il mio compleanno il biglietto per il concerto di Max Pezzali io non ho mai visto il concerto di Max Pezzali quindi era proprio un regalo bello sentito il fatto che mi avesse regalato questo biglietto poi è arrivato il covid e tutti i concerti sono stati annullati e quindi non ho mai più potuto vedere Max e quindi il fatto che mi abbia regalato grazie grazie mille è un emoziono io spero che lo andremo a vedere presto Max finirà presto tutto questo e andiamo a questo concerto Jacopo va bene speriamo presto grazie Jacopo ti voglio bere oh che ecco no è bellissimo ho già capito sì anch'io l'ho già capito Luca no non ci voglio credere lui veniva alle scuole elementari con me questo ragazzo elementari con te sì allora Luca guardate cosa mi ha regalato che bello guardate sì il peluche di me ma tutti questi costi guarda e devo ancora sì ecco sono mia mamma allora un bel peluche di nevo da parte del mio compagno di classe dell'elementare che cosa è carina è una cosa un po' carina grazie Luca guardate quanto è bello questo nevo adesso arrivo lì davanti ve lo faccio vedere bene bello anche il nevo mi piace tantissimo questo qui va dritto dritto sul mio scaffale eccolo qui apriamo l'ultimo pacco piccolo ecco qua lo adoro e anche questo è un bel contenuto da portare allora vediamo da parte di chi è no Frankie ti ringrazio per avermi fatto moderatore non ci pensavo proprio ed è stata una bella sorpresa insomma mi hai fatto un bel regalo di Natale facendomi emozionare un abbraccio da Frankie Sundas grazie Frankie è lui ragazzi è Little Hope grazie Frankie Little Hope ragazzi a voi piacciono i giochi horror ci giocheremo a brevissimo ragazzi vai pacco piatto questi ne voglio io no ma sono miei allora anche questo è di Frankie ma quanti regali mi hai fatto Frankie che carino buon Natale da Frankie Sundas grazie Frankie grazie mille ne ha fatto talmente tanti che aveva finito le provi che carino veramente grazie sono i calzini dei Pokemon sono bellissimi bellissimi allora abbiamo Pikachu Squirtle poi abbiamo Bulbasaur Psyduck e questo arancione dovrebbe essere Charmander belli sono bellissimi Frankie grazie sono proprio belli vediamo cosa c'è qui dentro oh abbiamo un altro pacchetto tutto carino guardate che bello abbiamo un altro pacchetto no dove no dove Diego ci sei e da parte di Domenico anche lui bello è una classe devo dire top con questi con questi pacchetti il Natale è la festa che più di ogni altro ci fa pensare alla famiglia per questo ti sento particolarmente vicina carino e voglio augurarti di trascorrere questi giorni di festa in serenità assieme ai tuoi cari buon Natale dal tuo God Domenico grazie Dome grazie mille eh non c'è vogliamo aspettare un attimo magari torna lo lascio un attimo da parte dai lasciamo un attimo vediamo se torna no che carino già vedo io che cos'è no lo adoro anche questo è un personaggio che amo allora aspettate prendiamo prima il bigliettino vediamo Franky aveva detto che era l'ultimo si è dimenticato Franky grazie allora un piccolo pensiero per una ragazza unica se veramente speciale buon Natale un abbraccio da Franky grazie grazie mille molti regali grazie di cuore e guardate che cos'è è il peluche di Stitch che carino oh suona anche adesso lo apriamo raga adesso lo vediamo bene ha detto Anna lo sai Anna significa famiglia adesso riu che carino adesso ve lo faccio vedere e ve lo faccio anche sentire ah ne fa vari hello che carino è mio è tutto mio grazie grazie Franky è bellissimo grazie vediamo che cos'è oh è carino allora vediamo che bugiardo è un bugiardo Franky buon Natale da Franky praticamente ho messo una volta la wishlist e l'ho comprata tutti grazie Franky di ora grazie di cuore anche questo ecco il suono perché c'è la batteria dentro è quello Dumbo il peluche di tutti adesso ve lo faccio vedere raga che carino grazie raga grazie a voi grazie a Franky soprattutto ho quasi finito il mio scaffale proprio ho iniziato a riempire tutto guarda quanti più luscio quante cose carine wow cosa c'è qui dentro ma non mi sembra di aver messo nella wishlist che cosa del genere a me sembra di sì sì vediamo sì è Gigi è Gigi lo sapevo io lo sapevo io che era Gigi è lui grazie Gigi un piccolo pensiero per una persona che con la sua allegria simpatia ed intelligenza allieta le mie giornate buon Natale ed un abbraccio immenso da UTS 1986 Luigi Puzzeri grazie Gigi grazie mille io lo sapevo che era lui allora vediamo cosa è guarda cosa è impegnato ha fatto bellissimo guarda wow che bello guarda qua che bella confezione guarda cosa c'è qui dentro guarda che bello sì lo sapevo guarda è una valigetta per la switch per metterci tutti i giochi dentro adesso la faccio vedere che è bella bellissima valigetta per Nintendo switch quella qui che come sapete io sono una nintendarola poi si apre dentro ci sono un bel po' di cosine allora ho la cover che questa veramente mi serviva che io la getto sempre ovunque è per proteggere la cover è per proteggere la switch che sta qua eccolo qui poi abbiamo questo sai che non so a cosa serve a cosa serve è Mario Kart ah questo è il volante sì fico io avevo capito che tu dicessi l'altro perché lui non capì l'altro è il joystick ma che figata questo è per Mario Kart raga no vabbè stupendo guardate che figata ne ho due di volanti ce ne sono due qui dentro di volanti questo qui questo è per appoggiare la switch penso di sì non so se c'è dombe ci sei se no apriamo lo stesso purtroppo ti ho lasciato alla fine sperando che tu tornassi ma mi sa che non è tornato vero? e vabbè dai non fa niente lo apriamo lo stesso vediamo il regalo di domenico lo rileggiamo il bigliettino il natale è la festa che più di ogni altra ci fa pensare alla famiglia per questo ti sento particolarmente vicina e voglio augurarti di trascorrere questi giorni di festa in serenità assieme ai tuoi cari buon natale dal tuo mod dome cos'è? ah è una è una tazza mi sa vediamo no che figa è la tazza di Daenerys che è la madre dei draghi e quindi qui ci sono i draghi che sono i pokemon ci sono i pokemon di tipo drago quindi Daenerys è super nerd questa tazza ecco qui vedete c'è Daenerys e poi siccome è la madre dei draghi abbiamo un dratini un charmander e un magikarp che infatti c'è la nuvoletta che si evolve in Geridos è troppo troppo carino grazie grazie di cuore Dome ti voglio bene ti mando un bacione buon natale amici io volevo veramente ringraziarvi di cuore per tutti questi bei regali e sentirvi vicini il giorno di natale è stato bellissimo io ne approfitto per fare tanti auguri a voi e alle vostre famiglie buone vacanze di natale vi voglio bene e ci vediamo al prossimo video se questo video vi è piaciuto lasciatemi un bel like soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video vi voglio bene un bacione ciao ciao a tutti i prossimi video